E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, guardatevi i video fatti nelle scorse ore, il commento alle parte, alle parte di campionato e via discorrendo, seguitemi sui social e attivate il campanaccio per due motivi, stasera ore 21, live dal Wyoming con il Bruni e il Monarca Nerazzurro, quindi devasto e fomento totale su tutte le squadre, rispondiamo alle vostre domande, fomenti e via dicendo. Poi inizia la due giorni di Coppa Europee, inizieremo domani commentando Malmo-Juve e poi ci guardiamo anche Inter-Real Madrid, quindi insomma due belle parte di Champions che guarderemo e commenteremo sul canale. Allora, io voglio fare questo video perché la crisi Juve, il dibattito Juve signori, il dibattito Juve è molto interessante e vi devo dire che quest'anno diciamo anche lo YouTubismo ha i suoi pangasi, ha le sue inerzi, ha i suoi sed annuali. Perché io ho iniziato magari il primo anno, ero dipendente, ero molto coinvolto dallo YouTubismo interista, poi ho scoperto quello romano, devo dirvi che quest'anno lo YouTubismo Juve, in questa situazione di crisi Juve, di passaggio, di dibattiti, è veramente un microcosmo interessante. Io mi seguo i video del buon Nati per vincere, il buon Simone Absim che saluto e anche sto ascoltando i video, un po' dell'altra campana, diciamo del buon Gianni Balzarini. E questo video lo faccio per rispondere all'ultimo video che ha pubblicato il buon Gianni Balzarini perché ha detto una cosa su cui non concordo molto. O meglio, lui fa un discorso, me lo si permetterà, me lo permetterà, abbastanza filo allegriano, diciamo così. Cioè nel senso tende a comprendere quelle che possono essere le difficoltà della Juve di oggi, le spiegazioni conseguentemente date ad Allegri, non vede il disastro che magari altri YouTuber Juventini vedono e denunciano. Lui è un po' più sereno, diciamo, da sto punto di vista qua e tende un po' ad avere una dialettica difensiva nei confronti di Allegri. Io vi dico non ha tutti i torti, perché anch'io penso che si legano giudizi un po' tranchant. Perché siamo comunque alla terza giornata dei campionati. I campionati hanno tre fasi, una fase iniziale, una fase di stabilizzazione e una fase poi di concretizzazione. Si possono dividere in tre. Siamo nel pieno della fase iniziale, una fase conoscitiva delle squadre. Ci sono tante squadre che hanno cambiato allenatore, che hanno bisogno di tempo per oliare i meccanismi. Ad oggi abbiamo delle impressioni e delle idee sicuramente, ma che non possono essere definitive. Quindi sono convinto anch'io, per esempio la Juve a Napoli, gli mancava mezza squadra e gli mancava la metà migliore della squadra. Quindi sono convinto anch'io che la Juve ritornerà in auge, la Juve ritornerà in lotta e ancora in lotta tranquillamente per tutto. Quello che si può dire preoccupa, quello che può far storcere il naso, è di lungo periodo quelle che sono state le scelte della dirigenza che hanno portato a questa situazione. Di breve, l'idea che Allegri sembra aver dato o non aver dato, a seconda dei punti di vista, alla squadra a livello di gioco. Perché hai veramente visto una Juve a Napoli che indipendentemente dai protagonisti ha giocato veramente bassa. Ma questa è una cosa che non si limita a Napoli, lo si è visto anche a Udine dopo i gol, lo si è visto in tante partite. Una squadra che, seguendo quelle che magari sono le idee del suo allenatore, fa veramente un gioco difensivista, un gioco a risparmio, possiamo dire, che ad oggi non fa ottenere neanche dei risultati. E qui mi leggo alla cosa a cui voglio rispondere a Balzarini. Perché Balzarini, ad un certo punto del suo video, del suo ultimo video, dice In squadre come la Juve non si può fare bel gioco, non si può puntare sul gioco. Squadre come la Juve sono squadre che devono vincere, che sono fatte di campioni e quindi non si può costruire del gioco alla Juve. L'ho un po' accettata con il coltello, però sostanzialmente dice questo, dicendo che le grandi squadre giocano così e l'unica eccezione può essere il Barcellona di Guardiola. Ma io dico, ma perché alla Juve non si può fare del gioco? Chi l'ha detto che alla Juve non si può puntare sul gioco? Perché ci deve essere questa chiusura? Anzi, 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 questa Juve qua, la Juve dei Kuluseschi, la Juve dei Dybala, la Juve dei Chiesa, la Juve dei Morata, la Juve dei Kean, la Juve dei giovani, per se ci vessi, la Juve dei Rabiot, dei Pellegrini, dei De Ligt, è una squadra che invece dovrebbe puntare sulla semina del gioco, sul puntare alla modernizzazione, in senso di avere una squadra con diversi giovani che possono e devono essere valorizzati da una dinamica di gioco moderna, che punti a portare la Juve a recuperare quegli step che in questi anni non ha guadagnato in Europa. Il discorso di Balzarini, io potrei capirlo, eventualmente, se stessimo parlando di una rosa di fuori classe, legacy il Real Madrid di 4-5 anni fa, con il Ronaldo all'apice della carriera, il Sergio Ramos all'apice della carriera, il Modric all'apice della carriera, il Casemiro all'apice della carriera, che allora dici, beh cazzo, c'ho 11 fuori classe, non è che vado a dirgli come devono giocare, a fare lo schema che ingabbia i giocatori e via dicendo. Ammesso non concesso che poi possa essere una cosa replicabile, perché per esempio anche Klopp al Liverpool c'ha una sua idea di gioco e ci ha vinto, per esempio, anche con dei grandi fuori classe in squadra, no? Però voglio dire, potrei capirlo, questo ragionamento, se tu c'hai la classica rosa di figurine stile fine anni 90, primi anni 2000, e gente che sa come giocare, non è che vai a dirgli cosa fare, si arrangiano e si mettono in campo quasi da soli, no? Come abbiamo visto poi Zidane, il tanto elogiato Zidane cosa ha fatto? Ha gestito, ha gestito una rosa di gente che si allenava da sola. Appena quella rosa ha scavallato, ha scavallato anche Zidane. Ma questo potrei capirlo, perché effettivamente quando una rosa è così quasi perfetta come era quel Real, non ha senso andare a mettere, ma la Juve non è questo. La Juve mica è una squadra di fuori classe, fatti e affermati, che giocano da soli o che sanno come giocare, e la riprova ce l'ha in queste partite qua. Anzi, è proprio da questo che si capisce, secondo me, che almeno in questa fase qui non basterà il cortomuso. Non basterà e sarebbe anche un peccato farlo bastare, perché la Juve, vi ripeto, invece ha tanti giovani che dovrebbero essere valorizzati da un'idea di gioco. Lo stesso Dybala, uno a cui il calcio piace, non può non amare Dybala, anche a me piace moltissimo Dybala quando è in forma. Ma non è un giocatore arrivato, Dybala per adesso non è che abbia inciso nella Juve come i del Piero o quei giocatori lì, è un altro che deve dimostrare. Ma ha maggior ragione, se tu giustamente punti su una Juve incentrata su Dybala, non può essere una Juve, non puoi fare questi ragionamenti qua da Real Madrid, delle Champions di fila, con una squadra che invece non è a quel livello. E poi si fa l'esempio del Milan dicendo che la Juve deve ispirarsi a squadre come il Milan, che hanno fisicità e che... ma il Milan gioca anche bene. Non so se avete visto il Milan delle ultime giornate, ma è un Milan leggero, è un Milan ficcante, è un Milan bello da vedere, è un Milan anche che chiude le squadre avversarie nella loro area di rigore, che sa fare delle belle triangolazioni tra fascia, centro, ritorno, attaccanti, centrocampisti, che si inserisce in Milan. Il Milan ha un gioco, ha un gioco lineare, ha un gioco veloce, ha un gioco semplice, ma ce l'ha un'idea di gioco. Il Milan è bello da vedere, non è una squadra che sta per tutta la partita nella sua area di rigore aspettando che l'avversario sbagli per recuperare palla e nel caso provare e cercare di ripartire. Poi sono d'accordo anch'io che la Juve ha nel suo DNA storicamente un'idea di gioco conservativa, ma è anche vero che negli ultimi anni le squadre si sono ammordernate anche in Italia, in Europa, l'obiettivo giustamente non è più quello di rinvigorire sto dibattito che c'è solo in Italia tra giochi male e vinci oppure giochi bene e perdi. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto che sia questo il destino, che sia questo l'obiettivo? Il Chelsea gioca male? Il Chelsea di Tuchel è l'emblema di questa unità di intenti che invece dovrebbe esserci cerco di vincere giocando bene. Tutte e due le cose devono essere l'obiettivo, non scegliere gioco male e vinco, dove poi? Perché la Juve non sta neanche vincendo ad oggi. Cioè capisco, vi ripeto, questo tipo di posizioni avrebbero senso se noi stessimo commentando una Juve piena zeppa di campioni che vince, non gioca bene, ma allora tu mi dici ma non ha senso che io vado ad incapponirmi sul bel gioco che ho una squadra piena zeppa di campioni e di prime donne che se tu gli metti il Sarri di turno, il De Zerbi di turno e via dicendo si incazzano e vado ad alterare un equilibrio che è vincente. La Juve è in tutt'altra situazione, la Juve è una squadra di giovani, è una squadra privata della figurina principale del giocatore che poteva per certi versi farti stare su sta impalcatura di ragionamento che comunque ai risultati alla mano non si è dimostrata giusta neanche quella perché anzi l'arrivo di Ronaldo e sto fatalismo nel dire non posso giocare, non posso puntare sul gioco, non posso puntare su un allenatore come Sarri che mi valorizza il sistema ti ha fatto arrivare dove sei adesso. Ma la Juve poi è in tutt'altra situazione e dovrebbe invece anzi approfittare di sta situazione per puntare ad una squadra che metta delle basi, che metta delle fondamenta di gioco, che valorizza attraverso il gioco certi elementi. La Juve finirà a 17esima in classifica? No, io penso che la Juve abbia una squadra molto forte potenzialmente che in Serie A può fare ancora la differenza. Sono d'accordo anch'io nel dire che Allegri può venire fuori da sta situazione ma questi ragionamenti qua non li condivido. Perché la Juve non può puntare su? Che cos'ha la Juve di così eccezionale per non poter essere nella modernità di oggi che tende anche a livellare, che tende a fare non solo nel calcio ma nella vita di tutti i giorni dell'Europa un villaggio globale perché la Juve deve stare sulla sua posizione arroccata da anni 70 di dire no io non posso fare bel gioco perché sono una squadra che punta sui campioni, il bel gioco no, a me rovina tutto. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? La Juve è una squadra come tutte le altre è una squadra che perciò ti versi ha anche più difficoltà delle altre che non ha i campioni che ha tante altre che non si trova nella situazione di dover gestire fuori classe o squadre di fuori classe quindi a maggior ragione anzi dovrebbe puntarci sulla costruzione e sul gioco per un discorso di medio-lungo periodo. Quindi questo mi sento di dire. Ditemi cosa ne pensate voi, un caro saluto.